In barco di viveri freschi, acqua e combustibile sono serviti a nave scuola Amerigo Vespucci per ripianare le cambuse durante la sosta nella cittadina di Funcial, sull'isola di Madeira. Attività di fondamentale importanza in vista della prossima navigazione verso le isole Bermuda, dove il veliero della Marina Militare giungerà alla fine di questo mese dopo ben 20 giorni di navigazione in Oceano Atlantico. Un viaggio iniziato lo scorso 10 maggio, dopo aver ultimato la sosta di quattro giorni a Funcial, che ha rappresentato la seconda tappa della campagna d'istruzione 2017, che porterà la nave più bella del mondo in Nord America per rappresentare l'eccellenza del Made in Italy e partecipare a diverse attività di rappresentanza in Canada e Stati Uniti. Sull'isola portoghese diversi momenti d'incontro sono stati organizzati anche con la locale comunità italiana, non solo per condividere la presenza di nave Vespucci tornato qui dopo ben 28 anni, ma per fare sentire ancora una volta la vicinanza dell'Italia verso i cittadini che per diverse ragioni oggi vivono lontani dal nostro paese. In quest'isola portoghese, immersa nel blu dell'oceano, si trova una vegetazione ricca e ricogliosa che fa da sfondo a Funcial, cittadina moderna e turistica che attira ogni anno migliaia di visitatori. La festa dei fiori in corso durante i giorni di sosta in Porto ha permesso inoltre all'equipaggio di trovare i giusti momenti di svago in vista del grande appuntamento addestrativo con l'oceano Atlantico e i suoi alisei. Venti che porteranno nave Vespucci fino ad Hamilton, ormai lontano dal continente europeo, dove sarà la volta del secondo raduno della Tollship Race in concomitanza alle prove ufficiali della Coppa America Louis Vuitton. Grazie a tutti! 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 Grazie.